Sono certo di vedervi a ricarda alla sera del 13 giugno. Il festival non è il film di conoscere, ma è anche il gioiemo, serate speciali, come gli eventi dedicati alla letteratura, alla musica, all'architettura e al design, alla moda, ma è anche un'occasione per incontrare i stagini. Tutti i dettagli, sui parti, sui tutti i film, e gli eventi del festival, e sugli ottimi che vi abbiamo presentato, sono accessibili i cittadini di un altro studio. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.